Bene bene bene, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale, sono sempre io, MrCinema92, ben ritrovati. Allora, come sapete, molti di voi sicuramente l'avranno seguita, mercoledì 10 maggio c'è stata la 68esima edizione della cerimonia dei David di Donatello, condotta anche quest'anno da Carlo Conti, con la prima tv ovviamente su Rai 1. Ci sono state delle sorprese positive, come ad esempio dei film che hanno vinto, per cui io tifavo, quindi sono veramente molto contento, tifavo per alcuni attori, per alcuni film che hanno vinto e sono molto 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 contento, non per essere di parte, però diciamo che facevo più tipo per loro, non sono di parte, semplicemente ho dato il mio giudizio dopo aver visto i film, di cui alcuni di questi li ho anche recensiti prima della cerimonia e vi invito ad andare a recuperare il video. Perché alcuni sono con gli spoiler, alcuni senza. Scusate un attimo. Scusate il pedo della diretta. Allora, adesso non ricordandomi di tutti purtroppo andrò a leggere i candidati e i vincitori. Ovviamente poi, se avete visto la cerimonia, se avete visto alcuni o tutti questi film, se vi va, date un vostro giudizio e così, voglio dire, ne parliamo e mi potrete dire la vostra. Scusate un attimo che è giusto, ok. Allora, cominciamo da Milo Film, per la cerimonia di questa 68esima edizione. Avevamo candidati Esterno Notte, Il Signore delle Formiche, La Stranezza, Le Otto Montagne e Nostalgia. Ha vinto Le Otto Montagne. Qui, sinceramente, un po' sono rimasto stupito, però Le Otto Montagne è un bellissimo film che vi invito a recuperare, che da oggi, se non sbaglio, è disponibile sul Prime Video con l'abbonamento. La coppia Alessandro Boga e Luca Marineri si è riunita e hanno fatto, veramente, anche stavolta, una grandissima interpretazione. Quindi, ragazzi, vi invito a recuperare il film perché è veramente molto bello. Migliori G adesso, avevamo Marco Bellocchio per Esterno Notte, Gianni Ameglio per Il Signore delle Formiche, Roberto Andò per La Stranezza, Felix Van Groeningen e Charlotte Van Der Merche per Le Otto Montagne e Mario Martone per Nostalgia. Ha vinto quello per cui io tifavo, non per gli altri, per carità, però tifavo maggiormente per lui, e ha vinto lui. Ha vinto Marco Bellocchio per Esterno Notte, il film che è andato in onda di nuovo venerdì e sabato scorso su Rai 3. Andò, venne trasmesso anche al cinema in due parti, è stato trasmesso anche su Rai 1 in tre puntate, se non sbaglio, io l'ho recuperato sulla Rai, ed è disponibile anche in due parti su Netflix, ragazzi. La storia vera del rapimento e dell'uccisione, purtroppo, del presidente della DC Aldo Moro. Una grandissima interpretazione di Fabrizio Gifuni. Quindi, complimenti, complimenti veramente tanto, tanti complimenti. Migliore soldo della regia adesso, avevamo Carolina Cavalli per Amanda, Jasmine Triga per Marcel, Nicolò Falsetti per Margini, Giulia Luisi Stengerwold per Settembre, Vincenzo Pirrotto per Spaccaossa. Non ho visto purtroppo nessuno di questi cinque, quindi il mio giudizio sarebbe stato così, dato tanto per, ha vinto per Settembre Giulia Luisi Stengerwold. Migliore sceneggiatura originale. La stranezza che adesso trovate anche su Prime Video, anche questo, con il duo fantastico Ficare Picconi che ha lavorato molto bene, con Tony Servilio che ha interpretato Luigi Pirandello. Veramente, ragazzi, è un bel film. Veramente, veramente è un bel film. Che ha fatto tanti incassi, se non sbaglio ha vinto anche il nastro d'argento, se non erro. Migliore sceneggiatura non originale adesso. Avevamo Bentù, Di Salvatore Mereu, Brado, Massimo Gaudioso, Kim Rossi Stewart, Il Colibri, Francesca Chibucci, Laura Paolucci, Francesco Piccolo, Le Otto Montagne, Felix Vrangoiniger, Charlotte Van Der Merch, Nostalgia, Mario Martone, Ippolita Di Maio. Ha vinto Le Otto Montagne. Migliore attrice protagonista. Benedetta Borcaroli per Amanda, Margherita Bui per Esterno Notte, Pelennaro Pecruzzi, L'Immensità, Barbara Rocchi, Settembre, Claudia Pandoffi, Sicità. Qui pensavo che vincesse sinceramente o la Pandoffi o la Bui. Ha vinto Barbara Rocchi per Settembre. Un film che recupererò perché non l'ho visto, quindi non posso dire se hanno fatto bene o male quelli della giuria, dargli le preme, quindi non posso. Migliore attore protagonista. Fabrizio Gifuni, Esterno Notte, Luigi Locascio, Il Signore delle Formiche, Figare Piccolo e La Stranezza, Alessandro Bocchi, Le Otto Montagne, Luca Marinelli, Le Otto Montagne. Ha vinto Fabrizio Gifuni, ragazzi, per Esterno Notte. Direi più che meritato. Con tutto il rispetto per gli altri, di cui ho un grandissima stima, però Gifuni l'ha meritato. Cioè, ragazzi, nell'espressione, nel viso, nel parlare, è somigliato molto, è parso molto uguale al vero Aldo Moro, quindi tifavo in primis per questo film, perché avevo dato, pensavo che sarebbe stato insieme alla Stranezza, il film che ha avuto più, appunto, premiazioni. E diciamo, in parte è stato così. Adesso miglior attrice non protagonista. Giovanna Mezzogiorno per Amanda, Daniela Marri, Esterno Notte, Giulia Andola, Stranezza, Aurora Quattro Occhi, Nostalgia e Emanuele Raffanelli, Siccità. Ha vinto Emanuele Raffanelli per Siccità, un film che ho recuperato prima della cerimonia, è disponibile su Prime Video con l'abbonamento. Non ho avuto tempo di fare la recensione. Ragazzi, un film carino, niente di eccezionale. Senza fammi ne illude. Miglior attore non protagonista. Fausto Russalesi, Esterno Notte, Tony Servile, Esterno Notte, Elio Germano, Il Signore delle Formiche, Filippo Timi, Le Otto Montagne, Francesco Di Leva, Nostalgia. Ha vinto l'attore napoletano Francesco Di Leva, per Nostalgia. E ci può stare. Ha interpretato un prete, è stato molto bravo, lui è molto bravo, simpatico. Si destregge molti ruoli, la maggior parte quelli del criminale. Però ha fatto un bel lavoro. Pensavo che onestamente potesse... Onestamente è stata una vittoria sorpresa questa, devo dire la verità. Non credevo vincesse Di Leva, sono sincero, niente di personale, per carità. Lo reputo, ripeto, bravo e simpatico. Credevo che potesse vincere o... o Germano, oppure Servilo o Russalesi. Comunque, va bene così. Miglior produttore, Esterno Notte, Lorenzo Mieli, Simone Gattoni, La Stranezza, Angelo Barbagallo, Attilio De Raza. Le Otto Montagne, Wildestad, Rufus, Menuetto, Piramide Production, Vision Distribution, Elastic, Canale Più, Cine Più, Sky, Nostalgia, Medusa Fiema, Maria Carolina Terzi, Luciano e Carlo Stella, Roberto Sesta, Angelo Laudisa, Princess, Carlo Altieri, Roberto De Paolis, Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri, Rai Cinema. Ha vinto, La Stranezza, Angelo Barbagallo, Attilio De Raza. Molto contento. Qui, miglior fotografie. Qui c'era, se vogliamo, l'imbalazzo della scelta. Avevamo, Esterno Notte, Francesco Di Giacomo, I racconti della domenica, La storia di un uomo per bene, Giovanni Mammolotti, La Stranezza, Maurizio Calvesi, Le Otto Montagne, Rubber De Impens, Nostalgia, Paolo Carnir. Ha trionfato, di nuovo, Le Otto Montagne, e quindi ha trionfato, Rubber Inpens. Miglior compositore, Esterno Notte, Fabio Massimo Capogrosso, Il Pataffio, Stefano Bollanni, La Stranezza, Michele Braga, Emanuele Bossi, Le Otto Montagne, Danne e Norgre, Sicita, Franco Bersanti, Ha vinto, Il Pataffio, Stefano Bollanni. Non l'ho visto questo film, quindi non posso dire nulla. Posso fare solo i complimenti a Bollanni, però sul film, ripeto, no, perché non l'ho visto. Milo Canzioni Originale, Se mi vuoi, Diodato, Diabolico, Ginko all'attacco, Caro Amore Lontanissimo, Marco Mengoni, Il Colibri, Culi Culanni, Stefano Bollanni, Il Pataffio, Margini, Niccolò Falsetti, La Palude, Proiettili, Elodie e Gioantiele, Ti mangi il cuore. Ha vinto e non me l'aspettavo, Proiettili, Elodie e Gioantiele, per il film Ti mangi il cuore, dove Elodie è stata la protagonista e ha curato anche la regia. Non l'ho visto questo film, perché non mi ispirava onestamente. Mi piace molto Elodie, è una bellissima ragazza e una bravissima cantante, però il film non mi ispirava onestamente, quindi se l'avete visto, dirmi che cosa ne pensate, senza fare spoglio, perché io e magari tanti altri non l'abbiamo visto. Milioscenografie, ragazzi. Passiamo alla Milioscenografie. Avevamo Giada Calabria, Lorena Danarafi, per La Stranezza, Andrea Castorina, Marco Martuccio, Laura Casalini, Esterno Notte, Marta Maffucci, Carolina Ferrara, per Il Signore delle Formiche, Massimiliano Nocente, Marcella Galeone, per Le Otto Montagne, e per l'ombra di Caravaggio, Tonino Zera, Maria Grazia Schirippa, Marco Bagnoli, ha trionfato La Stranezza, quindi vincitrici, Giada Calabria, Lorena Danarafi, complimenti. Migliori costumi, anche qui poteva esserci l'imbarazzo della scelta. Avevamo Maria Rita Barberi, La Stranezza, Daria Calbelli, per Esterno Notte, Massimo Cantini, Parrini, per Chiara, Valentina Monticelli, Signore delle Formiche, Carlo Poggioli, l'ombra di Caravaggio. Premetto che di questi non ho visto Chiara, il Signore delle Formiche e l'ombra di Caravaggio, purtroppo non li ho visti. Ha vinto Maria Rita Barbera per La Stranezza, e ci può stare. Miglior trucco, è anche qui. Avevamo, anche qui ci poteva essere l'imbarazzo della scelta. Paolo Agatta Brusi, Lorenzo Taburini, per I Colibri, Enrico Giacoponi, per Esterno Notte, Federico Laurenti, e Lorenzo Tamburini, per Dante, Luigi Rocchetti, l'ombra di Caravaggio, Esme Sciaroni, il Signore delle Formiche. Ha vinto Esterno Notte, quindi complimenti Enrico Giacoponi. Miglior acconciatura, Desiree Corridoni, l'ombra di Caravaggio, Alberta Giuliani, Esterno Notte, Samantha Mura, il Signore delle Formiche, Rudy Sifari, o Sifari non so, la stranezza, Daniele Tartari, l'immensità. Ha vinto l'ombra di Caravaggio, grazie a Desiree Corridoni. Miglior montaggio, Esmeralda Calabria, la stranezza, Francesca Calbelli, con la collaborazione di Claudoni Santoni, Esterno Notte, Nicoleone, le otto montagne, Simona Paggi, il Signore delle Formiche, Jacopo Quadri, Nostalgia, ha vinto un atto trionfo per Esterno Notte, quindi hanno vinto Claudio Mammisantoni e Francesca Calbelli. Miglior suono, Gaetano Carito, Liglio Rosato, Nadia Pavone, Esterno Notte, Emanuele Cecere, Silvia Moraes, Giancarlo Rutiliano, Nostalgia, Emanuele Cicconi, Mimmo Granata, Alberto Bernardi, il Signore delle Formiche, Carlo Missidenti, Marta Billingsley, Gianni Pallotto, la stranezza, Alessandro Palmerini, Alessandro Feletti, Alessandro Palmerini, Alessandro Feletti, Marco Falloni, Le Otto Montagne, ha vinto Le Otto Montagne, quindi Alessandro Palmerini, Alessandro Feletti e Marco Falloni, complimenti a loro. Migliori effetti visivi, Alessio Bertotti, Dampire, Massimo Cipollina, Esterno Notte, Marco Geracitano, Sicità, Rodolfo Emiliare, Le Otto Montagne, infine Simone Silvestre, Vito Picchiene, per Diabolik, Ginko all'attacco, ha vinto Sicità, con Marco Geracitano. Miglior documentario, Il cerchio di Sofì Chiarello, In Viaggio di Francesco Rosi, Kill Me If You Can di Alexi in Frascelli, La timidezza delle chiome di Valentina Bertani, Sveglia mia mezzanotte di Francesco Patierno, ha vinto Il cerchio di Sofì Chiarello, non l'ho visto e quindi non posso giudicare, complimenti a Sofì Chiarello e al cerchio. Milano film internazionale, Bonness and All, Elvis, Ligoli Spitz, The Fabermans, Triangle of Sadness, ha vinto, e direi che lo merita, The Fabermans di Steven Spielberg, premiato come Milano film internazionale. Poi abbiamo David Giovani, Corro da te, Il Colibri, L'Ombra di Caravaggio, La stranezza e Lotto montane, David Giovani va all'Ombra di Caravaggio, ricordiamo di diretto da Michele Pracido, con Riccardo Scamaccio, che ha interpretato appunto Caravaggio, io non l'ho visto, lo recupero, e ricordiamo per il Davide e lo spettatore, è stato dato a Massimo Veniere, Aldo Giovani e Giacomo, per Il Grande Giorno, io l'ho visto carino, è stata una bit rossa spesa ragazzi, non me l'aspettavo, sono contento per il trio, che li amo fin da quando sono piccolo, sono cresciuto con loro, quindi meritano davvero questo successo, dopo aver avuto qualche piccolo momento di difficoltà, per fortuna si sono riusciti a slanciare da Odio d'Estate, in poi appunto, dopo c'è stato Il Grande Giorno, ragazzi che dire, è stata una premiazione bella, ben condotta da Carlo Conti come sempre, ma non è una novità, che quest'anno era accompagnato da Matilde e Gioli, hanno fatto ovviamente un, hanno ricordato ovviamente tutti gli artisti, tutti gli attori, gli attrici vari, gli artisti scomparsi, come appunto Gino Allobrigida, Maurizio Costanzo, che ci hanno lasciato purtroppo quest'anno, è stata una bella cerimonia, ripeto, hanno vinto i film, e io mi aspettavo che vincessero, avrete notato che, e l'avete anche visto alla serata, se avete visto la premiazione, che Il Signore delle Formiche, non ha trionfato purtroppo, io non ho fatto il tempo a recuperarlo, questo film, mi prometto di recuperarlo nei prossimi giorni, e di farne poi una recensione, un mio amico l'ha visto, gli era piaciuto tanto, tifava anche per Elio Germano, e Luigi Locascio, io tifavo anche per La Stranezza, a ficcare piccone, però alla fine, ripeto, come miglior attore, il premio è stato dato giustamente a Fabrizio Gifuni, che ripeto, è stato grandissimo, ha fatto anche un bellissimo discorso, dopo aver ritirato la statuetta, quindi, ripeto, sono stati veramente, veramente molto bravi, tifava anche per Spielberg, per Migliori Film Internazionale, aveva fatto, il vuoto, purtroppo, a Elio Oscar, Spielberg, però a me non si prende, il premio di consolazione, che comunque è pur sempre un premio, con il David, di Donatello, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, ditemi la vostra, senza spoilerare alcuni film, che magari altri non hanno visto, ditemi la vostra, se avete visto la serata, se vi è piaciuta, se siete d'accordo, con le premiazioni, che sono state fatte, se vi aspettavate più premi, per altri film, ad esempio, perché quest'anno, c'è l'imbraccio della scelta, su tanti film, perché davvero, il cinema italiano, anche quest'anno, ci ha portato, ai David, alla 68esima edizione di David, ci ha portato, veramente tanti bei film, ve l'ho detto, Siccità, La stranezza, Nostalgia, Le otto montagne, Il signore delle formiche, anche se non l'ho visto, però mi fido di quelli, che l'hanno visto, e che hanno detto che è bello, Esterno Notte, magari con tutto rispetto, Siccità, è il meno bello di tutti questi, anche se, ripeto, ci sono delle formiche, non l'ho visto, però con tutto il rispetto, per Siccità, però ripeto, carino, niente di, non è un capolavoro, ragazzi, è carino, va bene, quindi, ditemi la vostra, e se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, grazie a tutti quelli, che l'hanno già fatto, e a tutti quelli, che continuano a seguirmi, bene, io, vi ringrazio, vi saluto, e vi auguro, una buona serata, e alla prossima, ciao!